Nei giorni scorsi la notizia della bocciatura della variante per il felettino, lei ha detto si va avanti comunque o con l'attuale progetto o si rifà un bando di gara, ma che cosa non ha funzionato? Guardi, non ha funzionato un appalto fatto nella precedente legislatura, ridosso dalle elezioni, con un'azienda che ha partecipato sola a quella gara d'appalto e quindi questo già dovrebbe farci dirci qualche cosa circa la competitività di quell'appalto, con una permuta, quello dell'ospedale Sant'Andrea, evidentemente sopravvalutata per ragioni che non voglio rivangare adesso. È stato un appalto mal fatto su un progetto fatto dalla stessa azienda che poi l'ha denunciato in un secondo tempo, quindi si direbbe in italiano un casino gigantesco fatto per soli scopi elettorali nella passata legislatura. Abbiamo lavorato tre anni per cercare di rimettere in carreggiata quel progetto, oggi le chiacchiere stanno a zero e anche la mia pazienza è finita, quindi o nelle prossime dieci giorni in quel cantiere si tornerà a lavorare, quel cantiere oggi tra il 5 e il 10% di stato d'avanzamento dovrebbe essere circa la metà, oppure quell'azienda si tolga dai piedi, tolga di lì quelle poche cose che ha messo fino ad oggi, riappalteremo la gara, gli spezzini devono sapere che abbiamo già stanziato ulteriori 30 milioni di euro su quel lavoro e quindi torneremo a gara con lo stesso progetto che oggi è di proprietà pubblica per realizzare esattamente quell'ospedale in dei tempi degni della tutela dei soldi dei cittadini. Siccome quel guaio è stato combinato nella passata legislatura a dieci giorni dal voto con una firma evidentemente improvvida, oggi o l'azienda si rende conto della responsabilità che si è assunta e anche tutta quella canea delle opposizioni taci, visto che hanno prodotto loro questo disastro per la città di Spezia, ci lasciano lavorare. Abbiamo provato fino in fondo a salvare un appalto che io spero si possa salvare, ma per salvarlo ci sono 5 giorni lavorativi da domani mattina. Dopodiché, se non cambierà esattamente la musica, chiederò ovviamente rispettando la legge al RUP e a IRE, cioè la stazione appaltante responsabile del procedimento, di risolvere quel contratto nel più breve tempo possibile per ricominciare tutto da capo con un appalto più degno, più efficace, più efficiente, con le giuste risorse che evidentemente all'epoca forse non c'erano e si è creato un percorso finanziario evidentemente inefficace dal momento che è andato così. Se qualcuno ha altri suggerimenti che non siano quelli di violare la legge che loro stessi hanno prodotto con questo appalto, non li faccia, altrimenti tutti quanti tacciano e si lavori nella stessa direzione, dare l'ospedale agli spezzini.